La mia caratteristica di Anna Va bene, quindi qual è la mia caratteristica? Non lo so, dimmelo tu Boh, nessuno fare pena Anna Dai Anna Anna è di una Vedete, non dovete mai fare come Anna Anna è l'esempio di non fare come Anna Non bisogna mai automortificarsi Sei una deficiente Mi fomento per le cose carine Allora, andiamo avanti Prossimo imbecille Strecato Grazie